musica mi ha appena appunto un'ape sulle orecchie destra ottima partenza insomma che pompa al sangue che più pompa al sangue più pulsa fa malissimo un eroe si stagliava all'orizzonte proveniva da una delle salite più impervie di tutta la Francia si avvicinava con ardore alla vittoria eccolo eccolo in cima al colle della Madeleine se muore adesso almeno mi ricordo appena terminata non mi lette su un bambino le desolate lande si aprono allo sguardo di questi penitenti viaggiatori e la grande vallata e quello che ci aspetta da-ta-raaan come on non ce la faccio più dove siamo? ancora tra 100 metri di snivello e 100 km non ce la faccio più anche io ma guardate un po' che roba come ripartiamo? così esattamente così ciao neve neve bianca da qui esce la sorgente dicevo che questi sono 10% di pendenza per i prossimi 2 km 3 2 3 2 2 3 3 3 3 e questa signori è discesa 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 dopo una deliziosa prima colazione ci accingiamo a compiere una nuova grande impresa ci rapparanno i nostri eroi solo il grande piccolo San Bernardo potrà dire 4 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 7 7 9 10 10 10 km 10 10 10 10 10 10 10 Buona giornata. Buona giornata. Guarda chi sta arrivando. È lui. È lui. La folla non ci crede, ma è lui. Ai 2000 metri del piccolo San Bernardo. Ancora 4 km. Ancora 4 km. Il ciclista che ci saluta. Il valico ci aspetta. Adieu. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Ce l'abbiamo. Il ciclista che ci saluta. Il ciclista che si ravi ałąniti. Sì. Grazie a tutti. Siamo dunque arrivati e le chiavi aprono. Sì, sì, è giunto il momento del riposo. Guarda ci tutti e due. Sì. 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 Sì.